Bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con il nostro Mino Duracell, signori miei, con l'uomo con gli occhi spiritati per continuare la nostra avventura in Limbo. Allora, io so che l'ho messo in pausa da un bel po' questo gioco, che non lo portavo, anche perché mi sono preso una pausa da YouTube in questo periodo, e però dobbiamo continuare questa serie, signori, voglio capire perché questo Mino con le gambe più sottile del mondo si trova in una valle deserta abbandonato, circondato da ragni e da ominidi che scappano appena lo vedono. Detto questo, signori, prima di partire il video vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare like e commenti, di seguirmi sui social, soprattutto su Instagram, mi trovate come Maullo941 e su Instagram tramite le stories vi aggiorno se ci sono live, che di solito facciamo due live al giorno, una su questa piattaforma e una sull'altra, quindi tenete sempre aggiornati sulle stories che vi tengo aggiornati lì. Detto questo, tanti aggiornamenti, ma nessuno... beh, mi sono impappinato. Partiamo col video, signori! Ok, signori, allora il nostro Mino Durace con gli occhi spiritati che non si spengono nemmeno se si scaricano le batterie. Allora, l'ultima volta abbiamo fatto cadere il ragno terribile qua sotto, che è morto male, e noi siamo riusciti a sopravvivere. Continuiamo l'avventura. Cerchiamo di capire qualcosa... Qualcosa che... no, 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 dura c'è... ecco, mamma che fine di merda, va bene signori, ci rivediamo quando torniamo alla palla di merda di prima, piccolo taglio velocemente, veloce, molto veloce, ok, ci siamo signori, il ragno se n'è andato a quel paese, noi torniamo qui verso la palla stercoidale, cerchiamo di... ah no, ok, questa si è rotta, noi torniamo indietro, dovrebbe rispondere il ragno che è immortale, signori, deduco che questo ragno è immortale, però te, così impari a rompere le scatole a noi, all'omino dura, comunque sembra spiritato signori, costiocchietti, sembra che guarda chissà che cosa, cioè sembra X-Files, cioè è una cosa terribile, no vabbè, speriamo che non mi faccia ripartire, ci sono strane cose a terra, no, ok, non ci sono trappole, questo legno casca sicuro, cioè questo legno appena mi ci lancio casca sicuro, mi gioco quello che volete, ah no, non è cascato, dove sta l'inghippo? troppo facile questa parte, signori, troppo, perché, perché questa parte è solamente così appasseggiata, c'è qualcosa che non quadra, c'è qualcosa che non cosa, scusatemi, ma che è tutto così il gioco, ma che paranoia, niente, stiamo camminando così, verso prati, aspetta, io devo sempre guardare che non ci siano trappole, signori, perché, che cacchio è che se, no, no, stavo facendo amicizia, mannaggia, sono morto, so, eh, che devo fa, che, che devo fa, no, non mi vede il ragno, non è vero, non mi vede il ragno, ne va, te sei preso una pallonata in testa, dico io, perché devi rompere le scatole a me, se no è morto in qualche maniera, e infatti, come fai a essere ancora vivo il ragno di questa gran par di cippa, che devo fa, voglio fare amicizia col ragno, non ti permettere mai più, e quindi, scusatemi, di qua ci sono le spine e gli indigeni poco, 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 carini, posso salirci di sopra, aha, interessante, sono sul ragno, tiè, muori, brutto ragno, e quindi, ah, lo posso spingere, no, non lo posso spingere, lo posso, come si tirava, lo posso tirare, no, posso salirci di sopra, sì, art attack, taram, tatatara, costruisci il tuo ponte col ragno morto, che cazzo lo devo fa, signori, non cammina, non cammina, mamma, che cosa brutta che ho appena visto, che cosa brutta che ho appena visto, mamma mia, abbiamo, abbiamo, mamma mia, mamma mia, dai, dai, sali, 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 eppure è peloso sto ragno, mamma mia, che schifo, dai, 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 gira, lo gira, lo gira, lo gira, lo gira, gira il ragno, we, we, gira il ragno, we, we, e lo butti dentro la buca, così, proprio per fargli l'ultimo, l'ultimo colpo di dolore terribile al ragno, già non gli bastava la pietra che gli abbiamo tirato addosso, no, pure infilzato fra le spine, che cosa carina, è molto cattivo questo bambino, riesce a saltare, ok, ce l'abbiamo fatta, signori, dove stanno gli indigeni, e indigeni, vengo in pace, una cornacchia, che mi ha salutato, un bambino intrappolato, ehi, bimbo, bimbo, dove cazzo, ok, calma, ok, stiamo calmi, c'è una scala, interessante, saliamo la scala, no, no, devi salire la scala, non ti devi tuffare così, c'ha le capiglie sottili, se ti tuffi così ti rompi le capiglie, allora, stiamo calmi, penso che dobbiamo liberare quel bambino, ma non so come possiamo fare, allora, come si saltava, così, proviamo a saltarci di sopra e a svegliarlo, oh, mio zio, so scemo io, ma porca di una paletta ambriaca, ma mi sa che è morto comunque quel bambino, perché è proprio messo male, cioè, proprio con le baracce a penzoloni, mi sa che è proprio messo male, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, aspetta, salta, ok, calma, posso rompere questa cosa di qua, no, allora andiamo sull'altra, ok, questa si è rotta, e quindi? E quindi? No, 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 cosa mi dice che ho fatto la cacata? No, forse ho fatto una cosa giusta, ma scusami, e il bimbo là lo lasciamo, ma sì, non guardare avanti, non guardare indietro, ma vai sempre avanti, questo deve essere il motto dell'Omino Duracell, taglie così, taglie così, taglie così, non so dove sta andando, c'è sempre più nebbia, ma secondo me siamo a Milano comunque, secondo me è ambientato a Milano questo gioco, troppa nebbia signori, sai nuotare? Sì, ok, se l'acqua ti rimane sopra la testa sa nuotare, cos'è quella cosa? Sento degli strani rumori e non mi piace, c'è quella cosa che non so cosa sia, proviamo a saltarci di sopra signori, e quindi? Chi è quello? Dove sta andando? Che è successo? È venuto a morire, ma perché? Ma che cosa brutta? Morte tua vita mia, ma che cosa ti arribe signori, questo gioco sta iniziando a diventare un po' particolare, cioè le persone, quello era un occhio solo, aveva solamente una pila dura, ehi, un altro indigeno, amico, perché, perché so che c'è, perché mi sento che ce l'aveva presa in giro? Amico, vengo in pace, la facciazza tua, amico, maledetto a te chi non te lo dice pure, da dove riprendo? Da dove riprendo? Ok, ah no, da qua, e quindi? Forse devo trovare qualcosa da tirare da... Ehi! Che fa? Mi tira le pietre questo? Ehi! Mi tiri le pietre? Non ci provare, sai? Ma mi ha tirato qualcosa? No. Ok, vediamo se riusciamo, aspettate, forse devo tirargli uno di quei bambini che erano andati a affogare nell'acqua, aspettate, perché questo è troppo vicino all'arriva, secondo me, se lo ciappo per la testa e me lo tiro, eeeh, va bene, dai. Mi dispiace per lui che diventerà una sottiletta, però, signori, noi dobbiamo andare avanti nel gioco, bisogna sfruttare qualsiasi cosa per la propria sopravvivenza, aspetta, aspetta, ok, dai omino, dai omino sottiletta, vai! Ecco, l'indigeno se n'è andato, mannaggia a te, dove sta l'indigeno? Cosa è quella cosa che si muove là sopra, signori? Ma perché tutte queste cose strane in questo gioco? Che cazzarola sono queste? Io ci salto, io levito, perché mi fanno proprio schifo queste cose gommose lì a terra, mi sa che è sputazza, hanno sputato, no, 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 questo è un altro bambino? Questo è un bambino con un occhio solo, come quello di prima, che però sta pensando, lo lasciamo lì a pensare, non lo disturbiamo, avanti, 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 questa mi casca di 90s, scommettiamo, e lo sapevo io, sono diventato sottiletta io stavolta, signori, da dove riprendiamo? Da qua, allora, io devo riuscire a tirare qualcosa in questa zona, ammino sottiletta, ammino sottiletta, svegliati, ti devo tirare nella sotto, non ho niente da prendere io, no, e perché l'omina sottiletta non riesco a prenderlo? Calma, siamo riusciti a fare tanti bei passi avanti in questa puntata oggi, qui c'è qualcosa a terra? No, forse devo fargli la finta, signori, devo fargli la finta, devo fargli la finta col gran par di ciuffoli che gli faccio la finta, mi schiaccia in maniera pesante, va bene signori, facciamolo così, facciamolo così, io direi che visto che mi fa ripartire da qua vuol dire che ha salvato in questo punto, io mi fermo qui per questo episodio, fatemi sapere se volete altri episodi di Limbo, arriviamo magari, che ne so, a 10 like, così portiamo avanti questa storia, a me sta intrigando, più che altro, anche perché è molto così tecnico-tattico, quindi fatemi sapere se vi interessa, detto questo signori, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto, grazie a tutti per i like, per i commenti, per le iscrizioni e per i suggerimenti, e un buon sabato signori, bella raga, ciao! Ciao!